I cittadini di tre province, Grigento, Catania e Caltanissetta, utenti della statale 417 Catania-Gela, sono rimasti per l'ennesima volta ostaggi degli ospiti richiedenti asilo, che dimorano così come definito dai più nella grande fabbrica di solidarietà il centro d'accoglienza Cara di Mineo. Sono migliaia di automobilisti che giornalmente percorrono per le rispettive esigenze la statale 417 Catania-Gela per giungere a Catania. Gli ospiti continuano a fare sul serio mostrando i denti e assumendo atteggiamenti di guerriglieri incontrollabili. Il segretario provinciale del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, Giuseppe Cocco, continua a lanciare l'ennesimo grido d'allarme. Il personale si trova costretto oggi a fronteggiare un'emergenza che a differenza del gennaio scorso è aumentata in maniera esponenziale. Un accordo che avrebbe accolto massimo 1.800-2.000 ospiti. Siamo arrivati oggi a un numero di oltre 4.000 extracomunitari di diverse etnie. Il rituale della guerriglia extraurbana è sempre lo stesso ed è un cliché ormai più che collaudato. Massi sulla strada, tentativi di linciaggio agli automobilisti, segnaletiche sradicate, lanci di sassi alle forze dell'ordine e quant'altro ancora accade in un paese civile come l'Italia. Benvenuti all'ex Residenza degli Aranci, oggi ridotto a Ghetto a Cinque Stelle. Automobilisti increduli e in presa al panico, specie quanti provenienti da Gela, Licata, Budera, Riesi, Mazzarino, Niscemi e da altri centri del Calatino che non hanno potuto raggiungere il capoluogo etneo per lavoro o per raggiungere strutture sanitarie o peggio ancora per quanti hanno pure perso i voli in partenza dall'aeroporto di Catania. Tanti a dire il vero, ma chi darà risposta a questa gente? Forse nessuno perché a nulla valgono questi inconvenienti dell'ultima ora senza considerare quanti non hanno potuto raggiungere gli ospedali catanesi per problemi di salute.